Senta, come si manifesta il tumore del testicolo? Il tumore del testicolo in genere è un nodulo asintomatico, non dolenta alla palpazione e spesso riscontro di tipo occasionale, in genere post-trauma. Successivamente a un trauma ci si rega il pronto soccorso, in un ospedale, in uno specialista per una visita e ecograficamente viene fatta una diagnosi accidentale.